Parti? Sì. 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 No, non riesco a capire. Fa farlo tutto prima in azione. Sì. Sì. Questo è il potere. Io non ci voglio. Non muore se le cimane le tante. Non è vero. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No. 3-3 Anliste in vantaggio assegnato con il numero 3 Ferraro Cosimo eccolo Grazie Grazie Oh, guarda, guarda Non voglio la restituita Guarda, guarda Mamma, mamma Buona parte No, no, bravo No, bravo No No, bravo No, bravo No, bravo No, bravo Sì, poi l'applauso E poi Vieni, vieni, vieni Senti, devi alzare Sì, vieni, vieni, vieni Di qua se la stessa passi Voluntare la musica Ok Per Per Fabio, per Maurizio e Gigi e Marco. Omaggiamo con un lungo applauso questo emozionante momento per il quale il calcio memoria è stato costruito e che grazie al gioco del calcio mantiene vivo il ricordo di queste tre persone. Lui va sempre in una troppa, magari professore o zene fisica che è molto meglio. Grazie. 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 Capri. Grazie. Mi so… Se mi sei segnato il nove, si deve dire un nove… Grazie. Facciamo l'albergo sulla sinistra, credo, no? Allora, facciamo così, facciamo. Eccola. Eccola, scuola, eccola... Eccola, scuola. Guarda, le dure, buona. Eccola, buona! Buona! Gioia! Gioia, gioia! E ve lo senti? C'è un mio! Cosimo, Corrella Grande Cosimo Termina dopo oltre 100 minuti questa bellissima finale Il Leuta vince l'ottava edizione del Carcio Memoria Da cui facciamo le nostre congratulazioni Onore anche alla lista Per una partita giocata a grandi ritmi E con un bel cancio